Attenzione, se in questo video ci fossero dei versi strani o magari sembra di aver fatto una corsa infinita Non preoccupatevi, semplicemente sono influenzato Grazie Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video di Doran Red Come vedete siamo ritornati con Reigns So che ci ho messo anni per portarlo e quindi oddio, tanto tempo perso, lo so Però sapete i motivi, stanza nuova, piccoli problemi Comunque due settimane sono andate a puttane e arrivederci Però ritorniamo comunque con questo giochino che a me piace tantissimo E ovviamente da dirvi in questo gameplay magari non tutti lo vedranno Per chi lo vedrà lo saprà, per chi non lo vedrà si arrangia un pochino tra virgolette Allora ragazzi ovviamente da dire che ultimamente ho ripreso un sacco di cose a scrivere Ci sono nuovi progetti e tante cose che vi parlerò a breve in un video Questa settimana uscirà tanta roba ma anche i prossimi mesi uscirà davvero tante cose Tra cui porterò anche due serie che saranno di gameplay però in modo molto diverso Che poi ovviamente con calma li vediamo tutti quanti, cioè riuscirete a vederli tutti con calma Comunque ragazzi siamo arrivati al re Giacomo Ovviamente la dinastia vecchia e morta quindi ricapitolando che attualmente abbiamo una nuova dinastia Che io inventerei un nome perché sono una persona che gli piace il gioco di ruolo inventato tra me e me Allora Giacomo vai, si chiama Giacomo Facciamo che siamo in Inghilterra In Inghilterra scusatemi Giacomo Giacomo York Vai, inventiamoci un nome Allora, questo è lì l'inverno più freddo degli ultimi 30 anni Aggiungete il magro raccolto e capirete che il popolo sta morendo di fame Allora, questo è un problema Odiamo allora le nostre scorte Non posso aiutarli Allora, io direi di dare le scorte perché abbiamo il bonus sui soldi Che abbiamo la vendita delle spezie Quindi conviene sacrificare i money Il mercato nero non è mai stato così fiorente Dovete inviare l'esercito nelle strade per porvi un freno No Allora Abbiamo trovato dell'oro nelle miniere Dobbiamo scovare più a fondo Facciamo sì Allora, i vostri mercanti stanno organizzando il commercio delle spezie da soli Con un mercato aperto potrebbe venderne dieci volte tante Mettiamo no Perché se non arriviamo con i soldi a un livello troppo massimo Già siamo quattro anni al potere L'eustario Ho letto bene Del torrente goccia Del torrente goccia è una pericolosa palude per i viaggiatori Dobbiamo sanare l'intera area No Dobbiamo costruire una nuova chiesa Sì, vai Una folla incollerita sta Attaccando la principale casa di piaceri della città Dicono siamo passati da un demonio Disperdete la folla Potremmo avere un problema Un frate ha iniziato a muodere i suoi fratelli Si sta diffondendo velocemente Generale Si tratta probabilmente di licantropia Non mi riguarda Lopimannari Lopimannari Licantropi Non credo Non chiamo Ah, non chiamiamolo Piuttosto crudele Mancanza di attività fisica Ma che cazzo Va bene Otto anni al potere Vorrei adornare la basilica Con un grande affresco ricco di potenti Allegiorie Delle vostre regali virtù Sì Così diminuiamo i soldi Che stiamo guadagnando soldi a manetta Mio signore siete un leader possente Ma inchina la vostra grandezza Molto bene E' accaduto un miracolo nel sud La stato di un profeta piange sangue Dobbiamo proclamarlo autentico No Non riesco a credere che l'abbiate fatto davvero Credici Se fosse un animale Quale sarebbe? Un leone? No Uno scorpione? No Una gazzella? No Allora i nostri spazi per regolare il commercio Hanno fatto fiorire l'economia Dovremmo creare una banca centrale No Allora la guerra è lunga E loro se chiedete C'è stato il fuoco No I banditi stanno terrorizzando le carovane Sulla via della seta Dobbiamo inviare delle truppe armate Sì Allora siamo 16 anni a potere Stranamente stiamo durando tanto Come descrivereste i movimenti della vostra anima? Combattivi e aperti Sensibili e mutevoli Sensibili e mutevoli Vai Vierrei Sembra che al vostro esercito manchino le basi dell'ingegno e personal Dovremmo investire Non aprire questo problema Sì vai Dobbiamo raggiungere il pubblico Mostrare che ci importa di loro Le esecuzioni sono noiose Aggiungi fuochi di artificiale dei giochetti Sì vai Farò finta di non aver sentito Ok Le suore di un convento si sono messe a miagolare come cazzi Sta diffondendo nel villaggio È un problema mio? Allora le suore continuano a miagolare per anni Alla fine la chiesa le dichiara eretiche È un incendio al convento Ma che cazzo? Puoi intagli al potere Ma perché? Mio signore i lupi divorano i nostri bambini Possiamo cacciarli? Darò caccia personalmente Durante la caccia siete stato vittima di un terribile incidente State perdendo molto sangue Un dottore? Mio signore dovrà tagliarvi un braccio? No Abbiamo regnato 20 anni Cazzo sono morto Ed è così che la famiglia York va a puttane subito Adesso Gerardo Allora facciamo adesso Gerardo Leinster Anzi Direi proprio una cosa molto più figa Gerardo Tudors Quindi iniziamo La casata di Tudor Allora Il regno del sud sostiene Che voi siete promesse alla loro giovane principessa Un rifiuto potrebbe Sì sposiamola Bene Perfetto Già abbiamo una moglie Gli abitanti dei villaggi occidentali hanno paura dei goblin Chi se ne occupa? Voi La scuola è un laborato meccanismo per fare il lavaggio del cervello A un'intera generazione con inizie religiose Fermatela Sì Una distinta compagnia di soldati Ubiaki ha saccheggiato una abrazia Vogliamo giustizia? Sì Se fosse possibile cambiare la vostra decisione precedente lo fareste? No Ok finita i guadagni del Delle Delle spezie Cavolo Cip cip Di chi è questo uccello? Gli eserciti nemici stanno distruggendo le nostre fortificazioni Con le catapulte Difendete Non si è mai abbastanza preparato Dovete reclutare più soldati Sì Vorrei dipingere un vostro ritatto maestà Sì Chi ha dato questa risposta? Il re o l'uomo? Il re Possiamo smembrare Borat In lingua lunga Per favore Quel pagliaccio ha rotto una catapulta Non così in fretta Stavo giocando a tennis con un gigante Ha vinto lui Vattene Ho aperto una taverna alla moda Vicino al porto Vorreste cortesemente accordarmi un prestito? Sì Nelle prigioni abbiamo trovato un corpo senza nome Nemmeno dobbiamo rinforzare la guarnigione? Non serve a niente Abbiamo scoperto un altro corpo nelle prigioni La gente inizia a essere nervosa Chiede più sicurezza Sì Vorrei condurre delle nuove ricerche sulla leggendaria trasformazione del piombo in oro Mi finanziereste? No Gli stipendi dei soldati sono troppo bassi Vi prego di restituirli adeguatamente e puntualmente No So chi è il killer della prigione Il mavaggio boia Non vi credo Io la violenza è il mio mestiere Non il mio hobby Preferisco coltivare le verdure E studiare la bellezza della natura Non vi credo Dovremmo inaugurare una pallegrinaggia Alla tomba di Sant'Armando No Abbiamo schiacciato gli eserci di invasori I bottini sono eccellenti Nessuna razzia Allora abbiamo scoperto un altro corpo nelle prigioni La gente inizia a essere nervosa Chiedere più sicurezza Sì Ho sentito parlare di nuovo di un locale di bestiale Ho sentito parlare di nuovo Di nuovo locale di bestiale Ma che cazzo? Non si capisce un cazzo cosa sta scritto qui Giù al porto Dovremmo farlo chiudere Non così in fretta Accivescovo di Saint Angel Vi trascina dalla taverna A lungo Un luogo rumoroso e puzzolente Cosa fate qui? Sono solo di passaggio Sono solo di passaggio Imbucati alla festa Non sono io Non potrei mai essere qui Danzate con me La vita è rosa Danza forsenamente Beh Oh Mi piace questo posto Ci ho investito Un sacco di bizzarri Dellenquette con maschere animali Basta così Basta così basta maestà Dovete chiudere questo buco Questo buco puzzolenta No Madonna La chiesa è al minimo Il messaggio dice Un gigante sta facendo tremare la terra Intorno a poveri Mandate sacerdoti in aiuto Inviate all'esercito Abbiamo scoperto un altro corpo nelle prigioni Una giornata inizia ad essere nervosa Chiede più sicurezza No Il torrente goccio sta allagando Di nuovo una vasta zona del paese Abbiamo bisogno dell'aiuto della chiesa e dell'esercito No Posso insegnarvi un paio di cose sulla magia bianca No Io sono Cedric Farrington E credo di aver individuato una rotta commerciale via mare Per raggiungere la zona Finanziate la mia spedizione? Sì La guida di mercanti Mentre merce è praticamente prodotta dall'abbazia Ponete fine a questa Sì Mi sa che Mio signore Non potete interrompere il commercio Ricordo la vostra Decisione anche se Voi siete Una nuova tassa Sì Ok Ci siamo salvati alla fine Mi serve del credito Sire 8000 pezzi d'oro al 5 terzo Ok Dacci un po' di soldi ragazzo Chip Pare che l'uccello trasportasse un messaggio Ma non si trova qui Guarda sotto il trono Trovate dell'immondizio ma nessun messaggio Questo messaggio deve essere importante Lasciate che mandate uomini alla frontiera No Era un messaggio importante Cavolo Il popolo si sta ribellando contro gli ultimi mesi della chiesa Dovete fuggire Cavolo sono morto Una folla pagana vi ha tolto la vita mentre cercavate di fuggire Dai che queste partite sono andate in modo perfetto Peccato Cioè sono stati due re fondamentali e non hanno avuto figli Cioè praticamente due casate sono morte subito Cioè alla fine abbiamo ucciso due dinastie Va bene ragazzi Per adesso ci fermiamo qui So che è stato È stato breve nel senso che ci sono stati solo due re Però comunque hanno regnato tutti e due A lungo Sono riuscito a fare qualcosa di decente più o meno L'unica cosa negativa è che non abbiamo avuto eredi Per la nostra dinastia Va bene ragazzi Ci vediamo al prossimo episodio Ciao a tutti